Benvenuti nella vostra casa, per il mio compleanno, e per me un grande onore, oltre che un piacere e sarei qui con voi, aver condiviso questi mesi meravigliosi, di sofferenze e di grandi gioie, quindi a tutti voi, per chi ce l'ha ancora, brindo tanti auguri. Grazie. Grazie a tutti voi, a tutti voi, di essere qui con noi. Noi sono lì! Grazie a tutti voi, a tutti voi, a tutti voi, a tutti voi, a tutti voi. Grazie a tutti voi, a tutti voi. Grazie a tutti voi. Grazie a tutti voi. Grazie a tutti voi. Grazie a tutti.